cari amici andiamo al nostro programma la liturgia cristiana della collega della storia devo sempre spazio all'inizio cari amici uno sguardo di fede sul momento che stiamo vivendo ed è un momento in cui lo vedo anche dagli me che mi arrivano insomma ci sono tante persone che sono in una situazione diciamo di inquietudine di inquietudine di ansia di paura di apprezzione per quanto riguarda il futuro e ovviamente chiedono anche dei consigli cari amici e ovviamente non è che nessuno la bacchetta magica per fare qualcosa di miracoloso però quello che volevo sottolineare è che nella vita ci sono tanti problemi alcuni di quali ovviamente vanno anche al di là delle nostre capacità di soluzione siamo per esempio prima del vivere insomma molte volte il lavoro non dipende da noi dipende dalla disponibilità che c'è e così tanti problemi che riguardano l'organizzazione sociale insomma molte volte non dipende da noi la soluzione per cui c'è anche sicuramente ci sono situazioni di immaginazione di povertà e di problemi proprio del vivere che da sola la gente non riesce a risolvere e per questo cari amici non si può che la cosa migliore che possiamo fare a parte diciamo aiutati che Dio ti aiuta allora c'è anche questa speranza che Dio ci ha dato con la seconda parte del Padre Nostro che ci ha invitato a pregare per il pane quotidiano perché poi se noi ci diamo da fare Dio ci aiuta a riguardo ci sarebbero innumerevole testimonianze però come vi dicevo molti problemi dipendono proprio più che da noi degli altri dipendono dalla società in cui viviamo per cui quindi siamo interconnessi tutti dovremmo darci la mano tutti però la maggioranza dei problemi che abbiamo cari amici è quello che vorrei sottolineare vorrei esortarvi che ci causano inquietudine sofferenza ansia e paura sono questo tipo di problemi sono di carattere esistenziale cioè sono problemi vissuti dentro di noi al nostro intimo e sono problemi che in gran parte possiamo risolvere noi non è che abbiamo bisogno per forza degli altri sì certamente mi viene in mente quando Gesù era nel Gezzemani che stava sudando sangue poi insomma si è alzato ma è stato verso gli apostoli quasi per chiedere per chiedere una parola di una parola di presenza una partecipazione alla sua sofferenza e al suo combattimento spirituale ma trovo che dormivano però Gesù comunque la parola l'ha ottenuta dal cielo in quel momento lì Gesù ha sperimentato anche in un certo momento possiamo dire quella che si chiama l'oscurità un'oscurità esistenziale per cui il padre gli ha mandato un angelo a consolarlo questo per dire che comunque il cielo ci aiuta sempre non è che ci mandi gli angeli però ci manda ci manda lo spirito santo ci manda quelle gocce di luce e di amore che ci frammenti di luce e gocce di amore che ci fanno cambiare diciamo interiormente per cui se noi vivessimo la preghiera diciamo con pazienza e con apertura del cuore poi alla fine sentiamo il dono della pace che arriva il dono del perdono e dono della divina presenza anche il dono della luce per guardare avanti con più fiducia e con più serenità allora vi dicevo certo abbiamo bisogno anche degli altri sarebbe bene o non sarebbe bene insomma che anche non solo i sacerdoti ma anche persone che hanno la fede siano capaci in questo mondo di dove c'è agitazione e confusione come ci ha detto la madonna essere l'amore del suo amore essere le mani tese però però quello che volevo dove volevo arrivare è che alla fin fine la verità è che i problemi che ci portiamo presso dentro di noi sono problemi del senso della vita insomma perché molti sovrono perché la vita la sentono inutile perché si sentono abbandonati perché si sentono soli perché sentono il peso del male dentro di sé perché sentono l'angoscia del tempo che passa sentono anche il peso diciamo della mancanza di fede di preghiera allora direi che il cozzente di sofferenza che noi portiamo dentro di noi è soprattutto di carattere spirituale perché anche gli attitivi di sofferenza per esempio soffro perché sono malato nella luce della fede non è che passi la sofferenza ma certamente la capacità di elevare la sofferenza diciamo ad uno che facciamo al Signore la rende quasi quasi amabile come ci testimonia la vita di tante persone al riguardo e allora io dico non passiamo la vita la giornata a lamentarci e accrogiolarci in noi stessi ritornando sempre sulle medesime piaghe e così aumentiamo il livello di il livello di come dire di sofferenza di acidità di disgusto della vita insomma inneschiamo quello che si chiama il male di vivere cari amici se c'è veramente un male di vivere che emerge con forza fino a conquistarti nella misura in cui tu non risali alla fonte della luce, della gioia, della pace che è Dio insomma detto in parole povere dal male di vivere tutto ciò che esso produce specialmente oggi l'ansietà per il futuro il pessimismo il disgusto della vita tutto quello che consegue anche la solitudine affettiva tutto questo cari amici che emerge e rischia di conquistarci ma anche se non avessimo le sicurezze umane del lavoro dello stipendio del livello di vita tranquillo tranquillizzante eccetera però se abbiamo questi mali dentro viviamo male lo stesso infatti sono tante persone che starebbero bene hanno tutto ma stanno male allora allora dove volevo arrivare da questo male di vivere che abbiamo dentro dipende da noi uscire fuori cioè dipende da te uscire fuori non è che devi andare a cercare in farmacia chissà quale pillola che ti rende o prendere le droghe o andare allo psicologo o fare chissà che cosa no dal male di vivere i medici noi siamo i migliori medici di noi stessi e noi possiamo uscire dal male di vivere ovviamente nel modo nel modo unico l'unico modo che 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 sperimentamente sperimentato da migliori di persone che è quello di aprire il cuore a Dio di aprirsi alla preghiera di aprirsi al suo amore e aprire il cuore indurito che si crociola nell'amarezza che magari ha arrabbiato anche con Dio o comunque ha liquidato Dio insomma cari amici quella che si chiama conversione rifegno spirituale si chiama come dipende esclusivamente da noi cioè ci vuole ci vuole l'umiltà prima di tutto nel capire che se noi spegniamo la luce è inutile che ci la mettiamo nel buio se noi abbiamo eliminato Dio dalla nostra vita e inutile che ci lamentiamo che non c'è più la luce non c'è più il calore non c'è più la vita è stata colpa nostra però dipende da noi cari amici ritornare dall'inverno alla primavera per così dire quindi quindi invece di crociolarsi e di trascinare un'esistenza nell'amarezza e nella rabbia e nel puntare dito contro tutto e contro tutti nel produrre cattiveria perché poi succede questo cari amici perché entra poi l'insofferenza anche la prepotenza l'odio verso gli altri nel cuore se noi cari amici con molta umiltà con molta umiltà ci rivolgiamo al Signore ci rivolgiamo a Dio ci rivolgiamo a Gesù cari amici ci rivolgiamo alla Madonna che è la via che ci porta a Gesù e ripresentiamo il nostro male cioè la nostra amarezza le nostre paure i nostri peccati ripresentiamo tutto questo con umiltà gli chiediamo la grazia di risvegliarci di uscire fuori dalla palude nella quale ci siamo ci siamo confinati come ha fatto questa generazione in grande maggioranza rinnegando Dio la fede la croce che sono le vie della salvezza insomma cari amici se noi siamo sulla via della rovina di noi stessi perché questa è la verità se noi siamo sulla via della rovina di noi stessi nessuno ci vieta di fermarci di tornare indietro dipende dalla via della salvezza sulla via della fede la via della preghiera la via del pentimento la via come dire del buon ladrone che sulla croce invece di bestemmiare e imprecare come faceva l'altro il quale imprecava e bestemmava anche contro Gesù il buon ladrone sulla croce che era nella sofferenza cosa ha fatto ha rivolto gli occhi verso Gesù ha visto come in quella situazione nel quale lui si trovava di angoscia di sofferenza che era soltanto una sofferenza fisica era la sofferenza di chi ai piedi della croce lo insultava lo 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 ingiuriava gli diceva scendi dalla croce e così dimostrerai che sei il figlio di Dio insomma lo bestemmiava e il cattivo ladrone si è unito a questo ma il buon ladrone guardando con lo sguardo il volto di Gesù gli occhi di Gesù vedendo la sua preghiera la preghiera che è anche per i suoi crucifissori perché Gesù sulla croce ha detto padre perdona loro perché non sanno quello che fanno il buon ladrone si è rivolto a Gesù per chiedere la grazia della salvezza si è rivolto a un moribondo crucifisso perché della grazia del paradiso cari amici la grazia del paradiso l'ha avuto ancora prima di morire l'ha avuto nel suo cuore è morto è morto nella pace del perdono cari amici è stato il primo ad entrare in paradiso con Gesù questo cioè questo capovolgimento radicale della situazione della sua situazione esistenziale di perdizione nella quale si trovava lui accogliendo la grazia che dalla croce era arrivata certamente a rammedù i ladroni ma lui l'ha accolta ha capovolto radicalmente la sua situazione esistenziale che da situazione di perdizione è diventata una situazione di salvezza cari amici non non iludiamoci che questo tempo è un tempo di prova che è incominciato che porterà attraverso un cammino di purificazione a un tempo di pace e di prosperità per tutta l'umanità perché attraverso questo tempo Dio ha provveduto ha guidato le cose guiderà le cose in modo tale che manifesterà la sua presenza e la sua onnipotenza e così i cuori si potranno aprire perché se i cuori non si aprono e non si convertono non c'è nessuna salvezza ma Dio ha predisposto le cose in modo tale che attraverso il cammino che abbiamo incominciato il quale ci mostra come la vita senza Dio sia una assurdità come ha detto la Madonna senza Dio la vita non ha senso ancora ultimamente ci ha detto la vita è passeggera e l'eternità vi aspetta insomma quindi però in questa vita passeggera noi possiamo ovviamente è importante possiamo conquistare l'eternità beata insomma quindi siamo in questo tempo cari amici non entriamo in questo tempo arrabbiati diciamo come si dice arrabbiati ma anche con gli altri ma anche con noi stessi eppure anche con Dio diciamo pessimisti e poi depressi confusi agitati presuntuosi non entriamo in questo tempo in questa situazione esistenziale perché perché non riusciamo a dominarlo ne saremmo travolti noi entriamo in questo tempo come ci ha detto la Madonna nell'intima unione con Gesù attraverso di lei e quindi con la pace del cuore con la fiducia in Dio abbandonandoci a Dio affidando a Dio tutti i nostri problemi anche quelli materiali quelli della salute del lavoro di tutto in questa dimensione cari amici siamo come i i tre ebrei giovani ebrei che passavano attraverso le fiamme della fornace ardente illesi mentre bruciavano quelli che stavano di fuori ecco cari amici quello che è questo questa capovolgimento della vita passare dall'ateismo alla fede passare dal peccato alla grazia passare diciamo dalle tenebre alla luce dall'agitazione alla pace dipende solo da noi aprire il cuore a Dio decidere la conversione affidarsi a Dio cercare Dio dire anche una piccola preghiera perché Dio venga il Signore aiuti vieni a salvarmi dal profondo grido a te oh Signore chi ve lo impedisce ve lo impedisce il maligno che cerca di deviarvi voi invece seguite le ispirazioni profonde del cuore e questo cari amici è il messaggio di speranza che voglio darvi all'inizio di questa giornata e adesso veniamo qui su questa terra dove cioè leggendo i giornali guardando i giornali si vede proprio la vanità del mondo cioè vanità del mondo le chiacchiere inutili del mondo le promesse scritte sulla sabbia del mondo i trionfi i trionfi del mondo che sono bolle di sapone che scoppiano e quelli che stappano lo champagne e quelli che si puntano il dito quelli che si scannano da una parte dall'altra insomma è uno spettacolo non c'è mai una parola difficile c'è una parola di pace di luce difficile sia una parola di amore difficile sia una parola di riconcilia no 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 è tutto è tutto un agroviglio di serpente e scorpione mi spiace parlare così mi dispiace parlare così è per quello che la madonna ci dice siate preghiera dove non c'è la preghiera siate pace dove non c'è la pace siate amore dove non c'è l'amore vi leggo i titoli dei giornali così liquido questa pagina che a mio parere è la solita recita del prima e dopo lezioni dunque vi leggo i titoli di alcuni giornali almeno quelli che si prestano dunque la stampa di Torino titola Salvini apre lo sconto con Draghi non è la donna il drago ma insomma allora Libero Salvini sfida Draghi crisetta di governo il motivo sono le tasse il catastro la lega boccia la riforma il premier dice un gesto serio Matteo Salvini dice no deleghe in bianco in poche parole a consiglio dei ministri inaspettatamente è arrivata la riforma fiscale e la riforma del catastro che non erano previste e prenderlo lasciare ovviamente e non credo che ci sia crisi di governo però insomma è una a mio parere un compromesso si troverà la crisi di governo che in questo momento non vantaggia nessuno il Corriere titola Salvini strappa Draghi va avanti varata la delega fiscale cioè praticamente è stata varata la delega fiscale al governo però nella delega fiscale c'è dentro anche la riforma fiscale e il catastro soprattutto il catastro ma tutto il centro-destra è contrario al catastro poi la Repubblica fisco lo strappo di Salvini il giornale i tassatori ci riprovano la sinistra già spinge per più imposte ma il centro-destra facilitare a 2026 la riforma del catastro eccetera quindi è una battaglia cari amici per praticamente che riguarda l'aumento delle tasse poi non voglio adesso entrare in queste questioni perché poi però insomma ci sono di modo di aumentare le tasse se la voletta della luce aumenta il 40% poi per bontà divina è calata il 37% insomma io mi chiedo come faranno molte persone a pagarsi la luce verrà tagliata o come faranno a campare cioè abbiate pazienza il campurante a che livello sono saluti il pino di benzina è aumentato almeno del 20% cioè voglio dire non so a forza di tirar via le penne di penne al tacchino non ne rimangono più il molto più soft avvenire il quale però fa anche una una un sintesi in prima pagina che è abbastanza che riferisce abbastanza bene la situazione allora vado a leggo la delega punta la delega fiscale al governo incluse anche comunque il catasto la revisione del catasto la delega punta a una riforma complessiva che rivedrà tutte le principali imposte con l'obiettivo di semplificare il sistema e abbassare il prelievo sul lavoro per favorire la crescita cioè c'è da dire che la riforma delle tasse non era prevista nel patto di governo di questo governo mi ricordo benissimo che Giorgetti aveva detto la riforma delle tasse è così importante che va va affidata la prossima legislatura quindi non è una cosa diciamo e l'hanno infilata lì questa riforma del catasto e la riforma comunque fiscale in generale l'hanno infilata lì per ovviamente come si dice Draghi dice bene e in fretta io su questo slogan ho qualche dubbio io bene ma con calma questo sarebbe il mio parere che poi conta niente la visione del catasto continua a venire ed attuare in cinque anni durante i quali non ci saranno a gravi di imposta ma le rassicurazioni del premio non passano a Salvini che parla del rischio di un aumento delle tasse dice Salvini non ci sono dei deleghi in bianco e non vedo nulla sulla rotamazione delle cartelle Draghi stavolta non grissa sulla decisione dei ministri leghisti e dice di per sé un gesto serio le ragioni ci spiegherà Salvini allora molti si chiedono ma ci sarà la crisi di governo la crisi di governo non ci dovrebbe essere a meno che certi partiti non spingano a provocarla ma questo non è l'intenzione credo di Salvini di provocare una crisi di governo sarebbe incomprensibile a mio parere mentre è possibile un ragionevole accordo insomma tenendo conto che a mio parere l'augmento del carburante e della luce basta e avanza per far dimagrire gli stipendi giriamo la pagina cari amici adesso andiamo a toccare un problema che a mio parere è importante affrontare cioè c'è una audizione no c'è una audizione al senato americano che riguarda facebook questa audizione dipende dipende appunto da documenti e rivelazioni fornite da una dirigente di facebook che si chiama Francis Haugen Haugen ve lo leggo come è scritto mi sembra un nome scandinavo comunque sia americana e la quale appunto ha deciso di raccontare alla stampa come avviene la governance di il governo cioè il governo cioè il governo praticamente Zuckerberg che è il proprietario di facebook che ovviamente con il suo con il suo direttivo insomma o con la sua commissione di sorveglianza e lei dice e racconta che in poche parole il modo con cui Zuckerberg governa facebook è inaccettabile diciamo così e questa 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 rivelazione ovviamente fatta ai giornali è confortata da documenti e anche analizzata da persone che l'hanno studiata insomma mette in evidenza un fatto che come vi dicevo è inaccettabile cioè poche parole lei accusa Zuckerberg accusa facebook di governare questo impero che è di 2 miliardi e 800 milioni di persone che seguono in un modo da parte non è che sia una novità a mio parere solo lo governa tenendo presente soltanto il profitto da ottenere cioè in poche parole il modo in cui facebook è governato è tale da cercare il modo di ottenere il massimo profitto possibile ma attenzione è qui il punto molto dedicato della cosa cioè in poche parole pure di ottenere il maggior numero di frequentatori il maggior numero di utenti il maggior numero di interventi su facebook facebook in poche parole in poche parole non modera e non argina i contenuti tossici cioè i contenuti tossici sarebbero fra l'altro la incitazione all'odio eccetera anzi più persone sono coinvolte e più persone creano diciamo così dibattiti o comunque anche estremisti estreme meglio è in quanto appunto i guadagni crescono allora questa sarebbe l'accusa che fa questa dipendente di facebook che l'ha fatta ai giornali e poi adesso è stata chiamata in senato a fare una relazione e porta anche i documenti per dimostrare quello che vuol dire nel medesimo tempo un giornale americano l'World Street Journal se non vado errato ha incaricato due ricercatrici che si chiamano Shira Frankel e Cecilia Kang che ci spiegano appunto come come funziona facebook e scrivono questo e sono arrivate a questa conclusione anche loro appunto sull'World Street Journal e sono arrivate a questo più complotti più odio e più contenuti incendiari attirano gli studenti creano traffico e quindi generano utili non so se sono riuscito a spiegare bene questa cosa c'è poche parole mentre i giornali la stampa quotidiana la stampa classica insomma l'informazione classica deve stare attenta perché ha comunque un'etica da seguire e non può pubblicare notizie diciamo che non siano state verificate diversamente richiede può essere denunciata può essere quindi dovuta rettificarci possono essere sanzioni da parte della magistratura eccetera invece con queste piattaforme tecnologiche in poche parole si può pubblicare qualsiasi cosa e quindi in poche parole non non si paga tazio cioè si possono pubblicare a livello internazionale notizie che sono comunque notizie che fanno male alla società soprattutto diciamo c'è un che incitano all'odio alla divisione alla quello che volete voi insomma e perciò e lo possono fare tranquillamente e quindi praticamente il problema adesso cioè praticamente adesso il problema è rassetto in mano alla politica cioè c'è da vedere cosa vorrà fare il senato americano a riguardo cioè se in poche parole metterà mano a questo fenomeno che mi ricordo aver sentito un discorso di Putin al meeting di Davos a marzo e Putin metteva il dito su queste su queste piattaforme internazionali che poi sono tutte americane cioè Facebook cioè questi praticamente queste strutture internazionali non hanno cioè fanno quello che vogliono si danno loro delle regole ma a quanto pare la regola vera è quella del profitto a tutti i costi poi esercitano una esercitano una censura che è stabilita dal capo cioè da chi comanda di loro quindi magari io mi ricordo che Facebook una volta noi abbiamo messo una famiglia che aveva dei bambini marito e moglie dei bambini per indicare che è una famiglia esemplare ci hanno messo in castigo non so per quanti giorni insomma e cioè fra l'altro è una censura inaccettabile assolutamente insomma sono al di fuori di qualsiasi controllo e loro decidono loro quello che è bene quello che è male quello che è pubblicato e quello non è pubblicato ma la cosa grave a quanto pare per quanto riguarda Facebook c'è l'accusa di pubblicare diciamo così anche di permettere che vengono pubblicati i post permette che vengono pubblicati i post che incidano all'odio questa sarebbe l'accusa poi vediamo ovviamente Zuckerberg dovrà difendersi da questo però poi oltre a questo oltre ai contenuti e oltre alla censura c'è un altro problema cioè in pratica sono come dice bene anche un articolo pubblicato su Tempi oggi hanno in pratica un monopolio cioè non esistono concorrenti sì c'è qualche concorrente ma arriva qualche milione di seguaci non in poche poi poi ho letto anche che Facebook vuole investire un miliardo di dollari il prossimo anno per far sì che su Facebook venga pubblicati gli articoli dei migliori giornali del mondo cioè evidentemente li sceglie lui cioè praticamente c'è un monopolio totale dell'informazione totale no ma certamente preponderante perché quando uno ha in mano tre miliardi di persone ditemelo voi cioè sono cose che la comunità internazionale non ha ancora preso seriamente in mano la questione mi ricordo che Putin dice è una question che dobbiamo affrontare questa qui cioè queste dipende dal tizio da Sempronio del proprietario proprio di questi mezzi dipende l'informazione mondiale insomma dipende quello che la gente deve sapere o non deve sapere e quindi siccome la Madonna ci ha detto pregate per la pace per la libertà volevo dire cari amici che certamente anche il potere politico e il potere economico hanno possono incidere molto sulla libertà ma non dimenticiamo il potere massmediatico che è diventato monoloquente monopensante come diceva ha detto molto bene con un'espressione felice Papa Francesco è sono i detentori del pensiero unico e quando si scopre che alla fine pur di guadagnare pur di guadagnare permettono che si incidi all'odio questa è una cosa insopportabile insomma questo è un problema da risolvere alla svelta questo di questi si chiama Big Tech la grande tecnologia che poi ha sede tutta in California è un problema da risolvere alla svelta la divorzione prima di tutti gli Stati Uniti ma anche tutte le realtà statali del mondo ovviamente devono prendere provvedimenti perché guardate che a mio parere è proprio dall'informazione che viene il più grave attentato la libertà è per quello che io vi dico sempre io per sapere come vanno le cose leggo i messaggi della Madonna per lo meno c'è la Madonna mi dice come le cose sono viste dal cielo insomma e mi dà un'informazione più profonda e più calibrata dalla realtà e questo è anche un avvertimento per tutti noi cari amici stiamo attenti a non farci lavare il cervello dalla televisione ma anche dai giornali abbiamo visto in tante occasioni come giornali tutti insieme o quasi tutti insieme per raggiungere gli obiettivi dei loro proprietari perché alla fine i giornali hanno un proprietario concreto che in genere sono industriali che hanno interessi concreti quindi se pagano i giornali se tengono i giornali è perché siccome il giornale costa è in perdita di per sé però loro subiscono queste perdite perché vogliono avere dei vantaggi a livello dell'informazione quindi non è solo per quello che dicono ma per quello che nascondono per quello che non dicono cioè rispetto a mio parere rispetto al problema dell'informazione non siamo ancora consapevoli dei lavaggi sottili di cervello che vengono fatti ogni giorno io per esempio che non vedo un telegiornale sono secoli non c'è verso che riesca a vederlo pervisco la carta stampata perché perlomeno diciamo è più difficile ingannare scrivendo un articolo anche se potete ne accorgi più o meno che sono scritti molte volte su pagamento punto e basta non è una novità questa questa dunque era quello che volevo dirvi per quanto riguarda questo che è il problema del momento io ho pubblicato ho pubblicato credo tre articoli su nostro sito internet due del foglio uno di uno di tempi che vi chiarisce la situazione adesso però cari amici volevo appunto completare il discorso dicendo che questa queste riserve su facebook questa questa rivelazione su facebook riguarda una governance cioè riguarda chi governa facebook il suo proprietario non riguarda chi gestisce la pagina di facebook cioè ovviamente ci sono delle persone che gestisce la pagina di facebook per i loro motivi e magari per le loro idee e magari veramente incitano all'odio o al razzismo o alla persecuzione religiosa o tante altre cose insomma e questo a mio parere a mio parere questo dovrebbe rientrare in una in una costellazione di valori approvati dai governi per cui queste cose dovrebbero essere queste pagine queste pagine devono essere eliminate punto e basta però su facebook esistono tanti altri siti pagine vediamo quella di radomaria per dire una fra le migliaia che ci sono sicuramente milioni di pagine belle dove si invece si si cultivano le cose belle insomma i valori la fede i buoni sentimenti la pace eccetera però ecco qua però cari amici anche qui io vedo che ci sono delle pagine di facebook di siti cattolici per esempio che permettono permettono a chi permettono agli utenti cioè i loro fans per così dire di scrivere qualsiasi cosa insomma cioè io mi chiedo come si può sopportare che dei siti cattolici tranquillamente permettono che si insulti il papa che si dicono delle cose che stanno nel cielo né in terra contro la chiesa contro la religione cose sbagliate diciamo così come come se ci fosse il permesso di diciamo così come se questo fosse richiesto da rispetto della libertà no cari amici la libertà è la libertà la libertà è la libertà di fare il bene perché se la libertà è per fare il male va bloccata non sono poi ovviamente tocca a ognuno di noi decide ciò che è bene ciò che è male noi spiego perché molte volte blocchiamo le persone sulla nostra pagina di facebook cioè quando quando vediamo dei commenti degli utenti dei nostri ascoltatori o di altri che sono infiltrati perché poi ci sono quelli che sono infiltrati da fuori che che cercano di dire cose cattive che cercano di di insultare o di denigrare o di insinuare tanto più poco quando si tocca la chiesa e il papa insomma quelle cose andrebbero tolte a mio parere andrebbero pulite cioè bisognerebbe non basta pubblicare un po' su facebook bisogna seguirlo ci sono ci sono dei dei malandrini chiamamoli così che che vanno a sporcare dappertutto si bloccano appunto e basta questo sì che è l'esercizio della responsabilità ed è un rispetto della libertà di chi vuole frequentare un sito senza sentire i malodori degli animali che poi vengono dalla foresta per così dire questo era un discorso a mio parere che andava affrontato e che diventerà sempre più importante andando avanti perché più andremo avanti caramici e più e più ci sarà comunque il tentativo del pensiero unico di imporsi prima in un modo dolce poi in un modo col ferro col pugno di ferro il pensiero unico parlo diciamo così degli estremisti che incitano all'odio parlo del pensiero unico che lo conosciamo qual è sappiamo qual è è quello del mondo nuovo senza Dio è quello che governa tutti i resmi di oggi quasi tutti e andrà sempre più allargandosi sempre più restringendosi cioè cercherà praticamente di dire di far sì che o tu la pensi così oppure ti spegniamo capito oppure non esisti più oppure capito la paghi cara andremo sempre più diciamo così e verso questo tipo di società e per quello forse che la Madonna ci ha detto pregate per la pace e la libertà bene carissimi abbiamo terminato la nostra lettura cristiana della storia insomma abbiamo la nostra bella battaglia quotidiana da fare affrontiamola con affrontiamola con l'aiuto di Dio nel nome del Signore spendiamo la nostra vita a fare il bene possiamo fare molto bene pregando possiamo fare molto bene essendo delle persone buone che diffondono pace e amore insomma cerchiamo di di contrapporre alle tenebre della luce all'odio l'amore e diciamo alle guerre di ogni genere specie l'atteggiamento dalla pace così ci costruiamo già su questa terra una vita molto molto come dire gradevole perché quando si fa il bene il bene fa bene a chi lo fa prima di tutto e facendo il bene seguendo la verità noi costruiamo noi stessi e diamo valore alla nostra vita e poi carimi si cade quello che accada cade quello che accada però l'importante è non cadere nelle tenebre dell'incredulità del male della morte spirituale dove tante persone si trovano adesso e dovremmo aiutare uscire fuori bene carissimi abbiamo terminato ringrazio di cuore tutti coloro che stanno aiutando Radomaria ne abbiamo bisogno si sente la crisi comunque cioè la crisi quest'anno è più dura dello scorso anno un anno e mezzo di pandemia si fa sentire sui bilanci delle famiglie ovviamente si fa sentire anche sulle ude che arrivano a noi però vedo che c'è anche tanta generosità molti ci aiutano anche per il programma che abbiamo che per noi è una priorità in questo momento aiutare le radomie dell'Africa e incrementare diciamo e portare avanti i lavori in Africa abbiamo aperto ben 20 cantieri adesso stiamo lavorando facciamo una clessidra da qui in avanti finché non sia riempita diciamo per per l'Angola e per l'Uganda abbiamo abbiamo fatto un ottimo lavoro per il Congo e per il Sud Sudan per il Congo ormai siamo molto avanti dovremmo però fare ancora tre sedi perché si concretizzino appunto le frequenze che abbiamo acquistato per riguardo il Sud Sudan abbiamo stiamo completando la sede centrale a Giuba e poi dovremo passare da due diocesi nelle quali ci troviamo alle sei diocesi insomma su territori immensi però lavorando e facendo un montello dopo l'altro che si va avanti si va avanti così mi ricordo di un ragazzino il nostro parco quello che costruiva la chiesa e noi andavamo presso il fiume Brembo che è lì vicino a noi e prendevamo dei sassi sassi bellissimi levigati dall'acqua di colore rosa per fare i muri esterni della chiesa e così a forza di raccogliere i sassi e portarli su erano tre chilometri da fare comunque a quei tempi c'erano le biciclette e basta e abbiamo costruito una bellissima chiesa cari amici così costruiamo questa grande cattedrale della Madonna nel mondo restate cari amici sempre in sintonia sono sta dolcissima Radio Maria Radio Maria Radio Maria Grazie a tutti.